Fala diventare colorata Colorata? Tre Tre Ah vabbè che spettacolo E di chi ha il posto? Maddalena Piacere Maddalena Giulia e Onora Maddalena Piacere IPD, Pure Arts Gianni Tour Gorbacca è stato un viaggio Quando tu vedi una fotografia dove ci sono tre persone Su uno sfondo neutro Senza che facciano nulla di particolare Ti puoi fare qualsiasi tipo di idea E questo è quello che possono servire a un ragazzo più adulto Ad avere delle conoscenze Che si possono secondo noi Trasmettere in tutti i momenti della vita Va? Ok Un lucchino? Ok E un po' di fecce Ametista Ametista Pietra della Serenità Sì Sappiate che quando ci sono da fare i braccialetti Ci vuoi tanta pazienza Vuoi vedere i braccialetti? Faccio sentire Sei È il limone Il limone Il limone Eh? Ecco Funziona così I profumi Ralleggano e fanno sentire Non so La prima Fanno sentire la stagione Corrispondenti Più lo strumento è piccolino Più lo strumento è piccolino Più il suono sarà alto Più lo strumento è grosso Più sarà basso il suono Come hai fatto prima Ok? Adesso gira 1, 2, 3 Ciao Ciao